Siamo al corso Cavour 187, qui c'era un atrio, non c'era il portone. Faccio un piccolo percorso per indicare... Buongiorno, indovini che sto facendo? Dopo glielo dico. La bomba è stata buttata qui. Ecco, questo mi fermo fra poco. Questo è l'edificio completamente scaricato. Nel giugno 1944, ricostruito dal falegname Paloni. Successivamente l'hanno abitato le figlie. Dopo l'ostetrica inglese, l'isillerio. Ecco, siamo nell'atrio del corso Cavour. Ecco. 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 C'è un abis beneficial.